In questa seconda lezione, abbiamo molto piacere Ecco come abbiamo arrivato nel nostro gruppo Ciao Dickens! Ciao, benvenuto fra noi! Accogliamo tutti i Dickens! Ciao Dickens! Prego, prego, si vedi di fianco a me Preferisci partire tu a raccontare la tua esperienza o preferisci che siano gli altri a farlo? Preferisci che siano gli altri? Ragazzi, qualcuno vuole cominciare? Io, posso? Prego Karen Ok, ciao a tutti, io sono Karen e sono Facebook dipendente Sono almeno due settimane che non entro su Facebook E quando mi ero accolto? Ah, Karen, credo che ti devo spostare nel gruppo di Farmville Cosa? No, mi piace e condivido troppo questo gruppo Anzi, mi proporrei come amministratrice Vabbè, vabbè, portatela via per favore, portatela via No, 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 cosa? No, 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 no Ciao, Kaker, ti amo! Ciao, sono Marco e sono Twitter dipendente Sono due settimane che non tweeto nulla No, Marco, no Metti via quel telefono Ma, ma i miei followers saranno in pena Lora, mi seguono, capisci? Siete in pena per me, è vero? Fermatelo! Disinstallate gli LAP No! Ciao, sono Martina Instagram dipendente O almeno così dicono Io qui non volevo nemmeno venirci Mi hanno costretta Martina, scusami, ma Hai postato una foto di Dick con effetto seppia e scrivendo un nuovo arrivato? Veramente effetto nube antica A me piace un sacco Linh, Martina, è l'ora della merenda Oh, è l'ora della merenda Ok, non sapi più Io non volevo ordinare quel kebab, davvero E che il tasto riordina È sempre lì Lo clicchi e ti torna il nuovo tutto È tutto troppo facile Ti torna il kebab Ok, Cristoforo Quanto tempo è che non ordini su clic e mangia? Di chi è la quattro stagioni? Che cosa ho fatto? Ma dico, voi avete mai provato a ricevere un pacco di Amazon Così elegante, così profumato? Io non riesco proprio a restare senza attendere un pacco di Amazon Ok, Emanuele, quanti pacchi di Amazon ricevi di solito? Ma, due Ah beh, ok Al giorno Buongiorno, la consegna per Karen Walker-Bauer Bugiardo Ciao ragazzi Oggi faremo un trucco glamour per la serata con gli amici Marianna Quante volte te lo devo dire Tu non sei Clio Makeup Se vuoi parlare con me Lascia un video di sposta qua sotto e non là sopra Toglietele la telecamera Salve youtuber Sei benvenuti a una nuova recensione Corona di Sbarosky made in China 12,50 euro per la Instagram dipendente Chi offre di più? Andrea, quella roba non è tua Tu hai già venduto tutto ciò che era il tuo passesso mesi fa Fibba è il negativo per la coordinatrice scorretta Questo maiale è così crudo Che posso ancora sentirgli cantare una matata Vuoi che muoro? Vuoi che muoro? Vuoi che muoro? L'orgasmo di un suino chiamato comunemente maiale o porco Ha una durata di 30 minuti È impossibile leccarsi i gomiti E una mucca può salire le scale ma non scenderle E per creare un momento di imbarazzo bastano 4 secondi di silenzio Ora dona il tuo 5 per 1000 a Wikipedia Ora veniamo a te Dickens Dick per gli amici Ah ok Dick Allora dici un po' Quali sono i tuoi problemi? Cosa ti ha spinto a venire qua tra di noi? Ehm sono indipendente dallo porno online Ok Dick grazie per il tuo contributo E io che credevo che giocassi a tennis Dipendenze da internet Scena 1 take 1 Ciao No 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 Ho perso la passione di Cristo Giocati a stiamo No 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 Che cazzo No prego Fermatelo Disinstallate gli app In in Martina è l'ora della merenda È l'ora della merenda 2 2 3 Benvenuti a una nuova recensione Vogliamo termine Scusate Bugiardo No 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 Grazie.